...e le scuole. Sono stati molto più formali di voi. Dove ci manoscurso? Allora, utilizziamo il tempo che il Ministro sta utilizzando per firmare il gioco, volevo dire solo una parola e mezza a proposito di quello che il Ministro ha appena detto. Diciamo, abbiamo due passaggi importanti. Il primo è che probabilmente io faccio l'altivista civico da 25 anni, non c'è mai stato un contesto in cui nell'ambito della scuola abbiamo non solo un Ministro attento, sensibile, che ha un'idea che sembra molto chiara che ha proviso con noi del futuro del tema di cui stiamo parlando. Abbiamo un Vice Ministro... Grazie. Grazie.